Permettetemi solo di lasciarvi un'indicazione per i prossimi anni. In ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione cercate di avviare un approfondimento dell'Evangelii Gaudium. Questo fu l'invito di Papa Francesco rivolto ai partecipanti del V Convegno Nazionale Ecclesiale di Firenze nel 2015. All'incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Corato, voluto dal Movimento Vivere Inne in collaborazione con la zona pastorale San Cataldo e l'Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Trani, Barletta e Viscegli, ha avuto per tema proprio l'enciclica Evangelii Gaudium, Evangelizzazione e Dialogo. Ospite l'Arcivescovo della Diocesi di Altamura, Gravina Acquaviva delle Fonti, nonché Presidente Nazionale di Pax Christi, Monsignor Giovanni Richiuti. Marilena Pastore. L'invito di Papa Francesco nel Convegno Ecclesiale del 2015 a approfondire l'Evangelii Gaudium. La Diocesi di Corato, in particolare la città di Corato, ha aderito a questo invito con la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Richiuti, Presidente Nazionale di Pax Christi. Un approfondimento su queste enciclioni. Sì, ricordo molto bene perché ero anch'io ovviamente a Firenze a novembre, quando quella mattina nella cattedrale di Firenze il Papa Francesco raccomandò ancora una volta, ma direi in modo molto esplicito, che la Chiesa italiana ponesse come programma, diciamo, pastorale a livello quasi nazionale, nelle Chiese particolari, la Evangelii Gaudium. Personalmente mi piace molto riflettere questo invito molto chiaro e molto esplicito, sì, perché noi come Chiesa italiana o come Chiese in Italia siamo impegnati in questo decennio in quegli orientamenti con il documento educare la vita buona del Vangelo, proprio nel decennio 2010-2020. Ecco, io credo che questo educare la vita buona del Vangelo, riscoperta questa educazione nella prospettiva della gioia del Vangelo, ecco direi che dà alla Chiesa italiana un volto più gioioso, più dialogante, una presenza che sia davvero una presenza che in qualche modo rassicura, non spaventa, non divide, non contrappone, ecco perché la gioia del Vangelo è proprio questa buona notizia di un cammino che si fa come Chiesa, come umanità, ecco verso un futuro più colmo di speranza e di fiducia.